Ciao a tutti! Oggi prepareremo i muffin con cioccolato al latte. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, fecola di patate, uova, zucchero, panna fresca per dolci, olio di semi di arachidi, cioccolato a pezzetti, lievito per dolci vanigliato, pasta d'arancia o scorza di un'arancia, sale. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le uova e ad azionare il bimbi per 6 minuti, 37 gradi, velocità 4, senza misurino. Aggiungere la panna. l'olio ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3. Aggiungere la pasta d'arancia la fecola di patate la fecola di patate la farina il sale ed il lievito ed azionare il bimbi per 3 minuti a velocità 4 aggiungere i pezzetti di cioccolato al latte ed amalgamare con la spatola trasferire il composto in pirottini per muffin abbiamo aggiunto dei pezzetti di cioccolato al latte in superficie adesso cuocere in forno per riscaldato statico a 180 gradi per 20-25 minuti i muffin solo cotti lasciare raffreddare e servire muffin con cioccolato al latte grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.